bella ragazzi e benvenuti al non episodio della modalità carriera con il cagliari qui ancora tozza spike e picchio bella e siamo quanti ancora con l'ultimo giorno di mercato e come vedete balotelli è andato al milan come nella realtà si cerca questo ultimo ultimo colpo come qui potete ben vedere tra i nostri giocatori che abbiamo messo nella lista dei preferiti infatti c'è un mitroglu come avete potuto ben vedere che una punta che abbiamo provato a prendere ma ce l'ho detto io in tutti modi e maniere ma noi vi consigliamo andare a prendere e vi consigliamo proprio di andare a prendere a vedere a visionare i giocatori che sono nel resto del mondo perché nel resto del mondo sono le squadre che poi non trovate in nessun campionato però sono quelle squadre che magari tipo calata sarai tipo bocca che hanno dei grandi giocatori qui abbiamo provato subito a fare offerte per due centrocampisti il primo è stato Musa Sissoko che era in scadenza e c'era stato anche consigliato da molti di voi allora abbiamo provato a farlo e poi girando girando così tra i centrocampisti abbiamo trovato Obi in scadenza abbiamo provato questa questa offerta da 3 milioni e mezzo nonostante lui sia valutato 8 milioni meno sono ben 4 milioni e mezzo di meno adesso aspettiamo che Moratti ci ci risponda e ci dica un po' cosa ne pensa quindi andiamo avanti con questa ora di mercato e qui come potete ben vedere vabbè c'è l'ufficializzazione per penso Gesù Rodriguez e poi Manzini Manzini che vola al Pescara signori il galeotto lo stupratore delle spiagge di Rio si ritrova si ritrova alla riviera di Pescara cose strane cose strane in questa salvata qui arriva la prima la prima volta in cui Musa Sissoko ci dice di no proviamo allora a fare una offerta da fare un pochino più alta da due e mezzo si passa a due e otto e la stessa cosa vale penso anche per Obi perché anche lui mi pare che ci ha non ci ha rifiutato ma l'Inter ci ha fatto una controfferta a quattro e cento noi proviamo su tre e nove e cinquanta proviamo a tenerci qualche centinaia di mezzo di euro perché ci servono in quei tre milioni che voi avete visto lì ci servono per prendere poi Badland a fine anno che noi ce li siamo sapenti e missi da parte e quindi si va avanti si va avanti cercando e sperando di fare questo ultimo colpo di mercato prendendo un centrocampista che a noi serve comunque per implementare il rosa e come vedere qui Musa Sissoko ci rifiuta di nuovo ma l'Inter Moratti ci dice di sì e allora noi ci facciamo scampare questa occasione fantastica fega ce lo portiamo a casa un centrocampista giovane completo perché sia bravo sia in tutte e due le fasi veloce c'è i piedi di Dio fa più ruoli questo è il più forte del Gesù Cristo lasciamo perdere e va bene così l'abbiamo messo in squadra subito e a livello tattico cambia poco cambia che De Sena va in panchina e Ekdal che è quello più grande fisicamente ed è più bravo sia nell'impostazione della manovra e anche comunque nella fase difensiva va davanti sia a picchiare la gente va davanti alla difesa e Obi va a fare il CC in modo che può dare una mano sia in attacco che in difesa ha visto le sue indiscutibili qualità usciamo da questo mercato quindi molto più potenti come potete vedere questa è la rosa insomma completa con la crescita generale di tutti i giocatori Agazzi è una branda ha storie indescrivibili Ariaudo e Ignico salgono in una maniera fantastica Ekdal è un giocatore spaziale Varin sale Obi è già salito c'è sceso dall'aereo ha detto mazza che bello sto posto e boom salito il Barbo è una branda ragazzi è salito di 5 il Barbo Nengolan è tutto è indescrivibile Impressionante Sauwe una freccia con i piedi fantastici Murru che sale Piniglia che è un fantastico giocatore Badland che lo teniamo stretto stretto Seppellini che ha un gran futuro Gesù Rodriguez ha grandi qualità insomma anche Guidetti giovane Medesena che anche se ci ha messo un po' sta salendo anche lui Pensiamo un cuore come avete visto sono un po' tutti giovani quindi salgono tutti poi purtroppo sono i nostri Camilleri e Casarini che anche loro hanno salito parecchio Soprattutto Camilleri che diventa una branda ci ha salito di 5 giocando solamente poche partite quindi potete solo immaginarvi il giocatore solo al primo anno quanto diventa forte questo giocatore intanto come potete vedere qui sulle notizie flash abbiamo abbiamo rifiutato un'offerta un'offerta molto allettante in Liverpool in Liverpool ci ha chiesto di andare ad allenare la squadra la squadra di Anfield ma abbiamo deciso di rimanere qui perché abbiamo appena iniziato abbiamo fatto solo poche partite anzi neanche abbiamo finito la prima stagione quindi e poi abbiamo progetti chiari qui a Cagliari quindi andare a Liverpool non ci sembrava proprio il caso e i nostri giocatori esaltati dal nostro rifiuto a Liverpool ci hanno regalato una prestazione a dir poco mostruosa con il Milan maiuscola maiuscola proprio qui subito colpo di testa dopo 3 minuti di penia che cade a terra si fa male alla caviglia 4 settimane 4 settimane fuori adesso che abbiamo come avete potuto ben vedere prima 3 partite in 5 giorni Milan Palermo e Roma con un solo riposo dopo ogni partita quindi Guidetti diventa titolare quindi la squadra si riaccorcia qui ragazzi va a banane da solo se ne va e Pazzini a porta vuota la piazza all'angolino dopo 9 minuti Milani in vantaggio 1-0 brutto brutto inizio per questo Cagliari che però non ci sta non ci sta e Ais Arenas non si passa ricordatevelo tutti Ais Arenas non si passa allora qui Sau la conclusione palla alta plastico Abbiati ancora Sau cerca qui la grande giocata John Guidetti tenta la conclusione calcia l'aria poi arriva ancora Sau alla conclusione di Nainggolan che prima viene fermato poi ci riprova e c'è la parata qui di Abbiati in angolo che stranamente para sul suo palo tra poco capirete perché intanto qui Barbo manda i matti Abate va a cercare guidetti tocco per Sau che va sul primo palo e la mette dentro ed è uno pari le come si dice il funambolo che fa le capriole le acrobazie poi ancora Sau grande palla per i Barbo buon controllo punta Abate lo fa secco ancora nessuno gli va addosso e cerca una conclusione di poco pazzesca ma la palla non va qui John Guidetti con la suola fantastico per Sau ancora contro Max S lo punta la busta fortuita ancora Max S pallone allontanato Nainggolan il controllo no Guidetti il controllo si gira Barbo il dribbling la botta sul primo palo niente Abbiati non li vede sul primo palo se lo dimentica e allora al 40 a quattresimo passa in vantaggio il Cagliari si vola nella ripresa con Guidetti palla per Albin Ekdal se ne va Ekdal tenta la conclusione viene fermato Nainggolan Nainggolan il tiro non irresistibile ma Abbiati ancora sul suo palo si accascia viene per terra ora lo rivedremo nel replay la splendida tecnica di Abbiati nella varata in questo caso mamma mia ragazzi si accascia è morto gli hanno sperato ma ancora non è sazio il Cagliari che vuole festeggiare questi tre allenatori che rimangono ancora Nainggolan la botta qui si è spostato l'avete visto si è spostato poi c'è Heidi Guidetti diventa Heidi è incredibile senza una motivazione le caprette gli fanno ciao poi la samba la samba si sa svedese che si fa la samba un tossico un tossico naturale 4 a 1 qui mamma mia ma che Ekdal tira un siluro qui ho sfidato ho sfidato Tozzo ho detto un tareggio e tira ha tirato un mig qui ancora Montolivo che combatte una palla per Pazzini miracolo di Batland ragazzi 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 scusate io sbaglio sbaglio ogni tanto cambio se no Antonini lancio in avanti Montari palla dentro per Emanuelson palo non è vero gol tristezza signori che tristezza prendere gol stupidi così stai sul 4 a 1 attenzione ancora grande lancio per Emanuelson il tiro palo vedi che c'era il palo ho visto la partita io e tanto attenzione ragazzi adesso vi facciamo vedere come si gioca a questo gioco palla indietro con il portiere Nico Martinez palla sulla fascia di prima Gesay Rodriguez per Ariadu dentro per Obi ancora cercate Gesay Rodriguez che se ne va ancora Gesay dentro per Sao temporeggia aspetta Guidetti gli passa il pallone il controllo si gira palla all'angolino un'azione a dir poco perfetta fantastica total own age per il dire dal portiere manita 5 a 2 tutti a casa con la cotoletta tutti a casa signori 5 a 2 fantastica partita meravigliosa del Cagliari che vola in una maniera pazzesca verso la Champions League ma che andiamo a fare a Liverpool che qui l'anno prossimo dobbiamo sfidarlo ma che sfida ma qui ci arriva a Liverpool mando va a Liverpool erano pure tipo ottavi capirai tanto qui come le potete vedere il brutto colpo Penia fuori 4 settimane Penigol il nostro bomber ma abbiamo guidetti noi puntiamo tutto su John però una partita subito dopo un giorno neanche un giorno guardate il bug del calendario adesso si vedrà molto bene no si è già visto in realtà siamo in difficoltà andiamo con tutte le riserve in 5 giorni quindi tutte le riserve abbiamo fatto un cambio tattico abbiamo deciso di mettere Benzià c'entra avanti un attacco naturalmente al suo fianco abbiamo messo Cesaro Triguez che lo fa fa anche la punta e abbiamo allargato sulla fascia Casarini in modo da avere insomma una squadra comunque offensiva qui parte forte il Palermo con Dibala ma c'è la parata di Badrano primo tempo molto scialbo a dire la verità perché dal dodicissimo si passa addirittura al quarantaduesimo Pisano qui cerca Seppellini grande palla per Cesaro Triguez ancora cercare Pisano che va a crossare dentro qui grandi seppellini di testa di anticipare tutti per poco non c'era il gol qui si passa al secondo tempo tiro ribattuto ancora De Sena tenta la botta la controlla con semplicità ancora qui il secondo tempo invece molto vivace si gola dal 51esimo al 54esimo Viola Arevalo Rios valla per un Bocanì che tenta la botta qui Badland ringrazia il palo gran giocatore qui Badland Gesero Triguez la gran giocata Gesero Triguez Gesero Triguez ma che gol ma che gol signore di Gesero Triguez oramai questo Cagliari ci ha stupito a fare gol e le inflessioni le inflessioni tutto sforzato invece di andare a festeggiare lui fa le inflessioni questi giocatori si devono tenere sempre in forma intenzione qui a seguire Brienza che fa una gran giocata per Dibala ancora di testa a palo e Murro con calma olimpionica come direbbe Picchio se ne va poi qui ancora Murro dentro Proceso Triguez l'imbeccata per Pisano l'accelerazione attenzione al novantesimo ancora Pisano Pisano se ne va grande giocata Pisano va a cercare Camilleri il centrale che tenta il piazzato la palla rimane lì Seppellini Seppellini fredda i cani veramente Isarenas impazzito e ancora Pisano fare le inflessioni vuota aiata davanti a tutti ragazzi non sente il dolore dopato oramai lo sanno tutti Isarenas non si passa Cagliari monumentale 2 a 0 rete inviolata occorre che non si vede una foto non è raccismo ma non si vede piove fuori piove e fuori piove ma a Cagliari c'è sempre il sole c'è sempre il sole signori come potete vedere dalla classifica levando la Juventus che gioca un campionato a parte il Cagliari è secondo con 48 punti abbiamo una partita in più del Milan abbiamo 10 punti in più del Milan che è sesto ed è fuori dall'Europa quindi stiamo andando alla grande abbiamo solo un punto sull'Inter e solo 3 sulla Lazio ma tenteremo il tutto per tutto fino alla fine per portarvi in Champions per la prossima stagione quindi per ora è tutto ci vedremo al prossimo episodio con grandi partite di campionato mi raccomando di lasciare un bel mi piace di commentare e di passare sulla nostra pagina Facebook un saluto a tutti bella